Conosci i tuoi campioni Sardo di nascita e di carattere, Pietro Paolo Virdis fa parte della Hall of Fame del Cagliari, ma ha scritto anche la storia del Milan. Nato nel 1957, all'esordio in Aconi Rosso-Blu, mette subito in mostra le sue doti di grande centro avanti. Passato alla Juventus nel 1977, vince due scudetti e una Coppa Italia, ma fatica a imporsi. La svolta, dopo due anni all'Udinese, arriva nel 1984 con la chiamata del Milan. Qui Virdis segna con continuità e nel 1988 realizza anche la doppietta decisiva al Napoli per la vittoria dello scudetto. Gullit in possesso del pallone, cerca di filtrare, si porta verso il fondo, effetta un cross pericoloso, rete, ha segnato ancora Virdis, ha portato in vantaggio la formazione del Milan in questo momento, Virdis entrando di slancio sul pallone. Vince ancora una Supercoppa italiana e una Coppa dei Campioni, prima di chiudere nel 1991 con il Lecce.